Lo sciopero generale indetto da CGL Will per i lavoratori sia pubblici che privati come forma di protesta per una legge di bilancio considerata inadeguata. Escluso invece dallo stop il mondo della sanità che tuttavia a Chieti ha fatto sentire la sua voce. Da eroi a dimenticati, non ci fermiamo ma protestiamo, vogliamo rispetto. Il tema della stabilizzazione dei lavoratori precari è senza alcun dubbio spinoso e molto delicato. La ASL2 è stata sollecitata a dare risposte, del resto la problematica della precarietà incide in modo significativo anche sulla vita delle persone e delle famiglie. Giuseppe Rucci, segretario generale della CGL Funzione Pubblica di Chieti. Entrando nello specifico, quali sono le priorità da affrontare? Le priorità innanzitutto sono quelle, come abbiamo più volte chiesto, di avere un piano del fabbisogno e dell'organico che ferma il 2019 che aggiorni la situazione attuale perché non possiamo che partire da lì. È chiaro che poi in conseguenza oggi parliamo di infermieri che hanno maturato i requisiti e sono in attesa di stabilizzazione. Parliamo dei medici del 118 convenzionati che anche qui parrebbe che c'è una norma regionale che non ancora venga applicata, quindi chiediamo di fare chiarezza. E poi c'è il tema di tutti gli OS che stanno lavorando con l'avviso. Giustamente si aspettano un percorso che porti in qualche modo ad avere chiarezza e prospettive future. Quanti lavoratori precari ci sono? Aslo 2 Oggi qui sulla Aslo 2 parliamo solo degli OS, parliamo più di 250 persone. Gli infermieri sono altrettanti, anche se devo dire che sugli infermieri una buona parte di risposte sono arrivate e i medici del 118 sono in numero inferiore. Ci sono anche lavoratori, Rucci, che non arrivano neanche a 500 euro al mese? È chiaro che questo è un altro problema enorme che va affrontato e sta esattamente in questo percorso che chiediamo di risolvere. Ho detto durante la riunione che la stabilizzazione di questi lavoratori raggiungerà due obiettivi. Quello di dare sicurezza alle famiglie, ma soprattutto anche a livello proprio tecnico, l'aumento di un miglioramento quindi dell'assistenza sanitaria, perché senza gli OS molti reparti sarebbero in grossa difficoltà. Buone nuove, diciamo così, entro il 2022, Sindaco? Sì, sono pienamente convinto che si raggiungerà un ottimo risultato, perché ho visto negli amministratori della Aslo una grande disponibilità.